che ci hanno avuto in passato e non è proprio accettabile è nato in questo modo, è in questo videogame che sta parlando, facendo parlare molto di sé è una sorta di vendetta pixel per tutti quegli abusivi verbali approcci diciamo assolutamente sgarmati e quindi sbagliati che le donne di mezzo a mezzo, di mezzo a mezzo stanno affrontando subito e la frontiera sta andando e sta andando adesso invece è un'obbligazione nostra quando disse che però secondo me è un'obbligazione, è un'obbligazione, è un'obbligazione